Salve a tutti benvenuti in questa in questa tracca in cui Federico che è un amico ormai da tempo della community ci parlerà fondamentalmente di SharePoint e di SharePoint Syntax che è una nuova tecnologia. Grazie Federico ti lascio la parola. Ciao grazie grazie mille Leonardo buongiorno a tutti grazie per aver fatto join a questa sessione dove parleremo di SharePoint Syntax. Prima di tutto mi presento, sono appunto Federico Porcedo, lavoro come technical architect in Avanade nell'area di Modern Workplace. Contribuisco alla community Pattern and Practice di SharePoint, ho un blog, qui trovate anche i miei riferimenti. Andiamo direttamente agli sponsor che ringraziamo per aiutarci sempre a organizzare questi eventi, li trovate appunto tutti linkati qui. A proposito di sponsor, tra gli sponsor c'è anche Avrand che è appunto l'azienda dove io lavoro da ormai più di dieci anni. Vi lascio giusto il link per andare a vedere qualche informazione in più. Così avete già seguito l'introduzione fatta dalla mia collega Giulia stamattina alla prima sessione. Andiamo direttamente all'agenda. Un attimo che cambio schermo. Eccoci qua. Sì, andiamo all'agenda che è molto fitta, parleremo di diversi argomenti, continuiamo l'introduzione, anche perché il mondo dell'intelligenza artificiale che è atterrato su Microsoft 365, in particolare su SharePoint, da qualche tempo, quindi da circa un annetto, è stato introdotto e lanciato all'ignite dell'anno scorso, SharePoint Project Cortex e Project Syntex, quindi faremo un'introduzione, parleremo delle evoluzioni dell'intelligenza artificiale, l'integrazione di Microsoft Graph per quanto riguarda i contenuti e connettori, avremo anche tempo di fare una demo, sperando che riesca a far vedere un po' tutto quanto, bevicine alle licenze e alle risorse su SharePoint Syntex. Bene, partiamo dall'introduzione, vediamo che Microsoft sta sicuramente investendo per quanto riguarda esperienze, diciamo, di nuova generazione che sfruttano Microsoft Graph per mettere in contatto le persone con la cosiddetta knowledge, ok, l'aspertise e l'insight, quindi la conoscenza, l'esperienza e tutto ciò che adesso è collegato. Queste esperienze si basano sicuramente su delle app e dei servizi, tra i quali appunto SharePoint, Yammer, Stream, Microsoft Search, che offrono a tutti i dipendenti, o meglio tutti gli utenti che utilizzano queste risorse, delle funzionalità premium, fondamentalmente, sicuramente che insistono sull'intelligenza artificiale. Esploreremo quindi in questa sessione queste capacità, suddivise in queste quattro aree, la knowledge discovery, quindi la scoperta della conoscenza, che consente di mettere in contatto, mettere in contatto l'utente con le conoscenze pertinenti di tutta l'organizzazione in tempo reale, ovviamente contestualizzato al proprio team e al proprio lavoro. La parte di content service che abilita e sblocca la conoscenza dei contenuti per potenziare i processi aziendali, magari anche da parte di compliance eventualmente. L'expertise, l'handswer, ovvero tutto ciò che consente di metterti in contatto con gli esperti della tua azienda, e quindi capire chi ha già lavorato in un progetto con una particolare tecnologia o ha degli skill, e ti consente di ottenere risposte alle tue domande. I workplace insight che aiutano, come dire, a garantire sia agli individui, ai team in generale, alle organizzazioni, informazioni, quindi insight sulla propria modalità di lavoro, che in tempi come questi di smart working più o meno forzato è sicuramente fondamentale tenere sotto controllo il work life balance fondamentalmente. Quindi tutti questi strumenti consentono di fare questo fondamentalmente. Andiamo avanti e vediamo come è possibile modernizzare i contenuti con Microsoft 365. Tutta questa parte è un'introduzione, poi andremo nel dettaglio, Project Cortex e Syntex, però è importante per capire qual è il journey che Microsoft sta offrendo a chi ha sicuramente gli utenti finali, ma anche a noi sviluppatori tecnici che disegnano e implementano soluzioni basate su Microsoft 365 che vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi cosa è che chiedono i clienti a Microsoft e quindi a noi che sviluppiamo soluzioni basate su tecnologie Microsoft. Sicuramente di disconnettere i cosiddetti silos, quindi attraverso le linee di business e i sistemi legacy, vogliono qualcosa che non gli obblighi a lavorare per silos fondamentalmente. Un altro punto molto importante è la gestione di metadati e tassonomie riutilizzabili in ogni contesto. Ok? O ancora avere delle soluzioni che lavorano su compliance e consentono di implementare la retention e gestione di record fondamentalmente. Ok? Come risolve Microsoft 365 queste challenge? Introducendo concetti di content understanding, content processing e content governance. Questo appunto l'approccio. Ovviamente i temi e le challenge di sinistra sono quelle classiche da sempre, solo che oggi nel 2021 abbiamo sicuramente degli strumenti molto innovativi e molto insomma avanzati tecnologicamente che consentono di fare questo e di sfruttare l'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere come tramite Project Cortex Microsoft ha rimmaginato la gestione dei contenuti della conoscenza. Ok? Questo lo si può fare diciamo in due modi, con un journey un po' più semplice, quindi che parte dalla deliver, organize e connect. Quindi connecting people to knowledge vuol dire fondamentalmente dare la possibilità agli utenti di accedere alla conoscenza tramite i cosiddetti shared topics. Topics è sicuramente una keyword in tutto questo viaggio che faremo in questa sessione. Ok? E quindi consente di far accedere alle persone, gli utenti, a dei topi, a delle informazioni categorizzate tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il content processing, quindi il processare è in maniera automatizzata, quindi qua parliamo di processi di business fondamentalmente. Il content compliance, collegare tutto questo è dare la possibilità agli utenti di implementare soluzioni di compliance e di security sfruttando l'intelligenza artificiale. Quindi in questo viaggio, che da sinistra verso destra è un po' più semplice, parte dal cosiddetto valore aziendale dell'esperienza dell'utente finale, si può fare anche un viaggio opposto, quindi da destra verso sinistra, inteso un po' più tecnico, che inizia con l'intelligenza artificiale, l'acquisizione e termina con l'esperienza utente finale. Il tutto connesso e interconnesso tramite Microsoft Graph e servizi di intelligenza artificiale che vengono ospitati su Azure e i cosiddetti content service, ovvero i servizi che vengono offerti dalla piattaforma. Andiamo avanti e guardiamo un po', facciamo un overview su quello che è il Project Cortex. Project Cortex si sviluppa con Capability, Features e Products, fondamentalmente dal basso verso l'alto, e ha un approccio di questo tipo, ovvero consente di utilizzare, possente di introdurre un concetto di knowledge, curation e discovery, dove per discovery si intende proprio il fatto che l'utente va a capire, a connetersi con la conoscenza utilizzando i cosiddetti topic, ok? Curation, ovvero dove gli utenti alimentano, quindi esplorano i topic, gli esperti alimentano, fanno un manage dei topic fondamentalmente, ok? Questo avviene a livello di Project Cortex in una parte che si chiama Knowledge Center, Homepage, mentre i topic sono appunto l'interfaccia per gli utenti per effettuare le discovery. Il tutto integrato ovviamente nella suite Microsoft 365 tramite Teams, Yammer, Outlook e ovviamente SharePoint. Per la parte di content service invece si parla di processi, dove gli owner del processo costruiscono dei modelli, inseriscono dei contenuti, organizzano i contenuti, come dire, modellando il processo sulla base dei contenuti, ok? Questa frase è un po' stratta, ma anche durante la demo vedremo di cosa si tratta. Sicuramente un acceleratore importantissimo. ovviamente ci sono anche gli utenti che accedono ai propri contenuti, insomma, secondo le varie regole. Questo ha un content center processing, ok? E tutta la parte di metadati, ok? Questi sono i pillar del Project Cortex, quindi Knowledge Center con i topic, metadata in content compliance e content center content processing. Sono i pillar del Project Cortex fondamentalmente. Tutta la parte sottostante ovviamente ti dice, ti spiega in che modo questo avviene, quindi sfruttando l'IPA di graph, l'intelligenza artificiale e i connettori di graph che consentono anche di estendere potenzialmente questa soluzione, ovviamente. Ok? Andiamo avanti perché c'è molto da dire e sicuramente il tempo corre fondamentalmente. Ok, quello che vedete è un deep dive sulla parte di Cortex, ok? Relativo ai topic. Cosa sono i topic? Immaginate navigare sulla vostra pagina SharePoint, a un certo punto si illumina un link, detto in breve, sto parlando molto in maniera pragmatica, si illumina un link ed è possibile accedere a quelle che sono i dettagli relativi a questo topic, quindi questo argomento che può essere core, potrebbe essere il nome di un progetto, potrebbe essere un cliente, potrebbe essere una skill e in base a questo vedere tutto ciò che adesso è collegato, quindi resource, people, related topic e così via. Questa è la parte di topic, un esempio pratico. Vediamo invece la parte di online center o topic center, è un sito apposito che ti mostra per ciascun topic il dettaglio, la tip dive di quello che ci abbiamo visto prima nella scheda, quindi tutta la parte di overview, tutta la parte di people, tutta la parte relativa alle conversation, per esempio, quindi questa è la parte di overview, sono entrato dentro core per esempio, le persone che hanno utilizzato questa skill, le risorse, i documenti collegati a questo topic, siti e topic collegati, questo è il password tramite Yammer. Come vedete questo consente di prima di tutto dare agli utenti una nuova funzionalità di accedere ai contenuti, contenuti che non è chi gestisce la intranet, chi gestisce il sito a realizzare, ma sono realizzati dinamicamente, automaticamente grazie all'intelligenza artificiale fondamentalmente. Quindi questo è molto potente ed è un utilizzo nuovo, innovativo, che consente di implementare la cosiddetta internet intelligente fondamentalmente. Andiamo avanti e introduciamo SharePoint Syntax. SharePoint Syntax, per la parte di content service, consente di fare questo. Detto in breve. Abbiamo la parte di content understanding, quindi la possibilità di creare tramite no code dei modelli di intelligenza artificiale che consentono di catturare e classificare, estrarre informazioni e alimentare eventualmente una tassonomia di metadati. Quindi immaginate tutto il processo di documentale che a un certo punto estrae una serie di metadati e questi metadati sono a disposizione dell'utente e ne può fare l'uso che meglio preferisce. La parte di content processi che consente di automatizzare il capture, quindi l'ingestion, la categorizzazione, quindi l'alimentazione fondamentalmente dei contenuti utilizzando la propria platform. Quindi una volta fatto il modello e definita la comprensione, vado ad automatizzare il processo che va a fare il lavoro effettivo. Ok? Quindi l'alimentazione di queste informazioni, di questi contenuti. Per quanto riguarda invece la compliance, tutte queste informazioni possono essere utilizzate all'interno di Microsoft Information Protection, che è l'hub della gestione della sicurezza presente su Microsoft S5 per migliorare, ma dal mio punto di vista anche sviluppare e realizzare soluzioni di security e soluzioni di governance. Bene, andiamo avanti. Questa parte qua tra l'altro la vedremo anche nella demo nel dettaglio. Andiamo avanti e vediamo come appunto è evoluta, quindi qual è il giorno che ha fatto Microsoft sulla parte di intelligenza artificiale, l'evoluzione appunto del content of AI, quindi di quelli che sono gli approcci dell'intelligenza artificiale e vediamo come su Microsoft Syntex e Cortex è stato approcciato il problema. Partiamo dalla conventional machine learning, dove fondamentalmente dal punto di vista dell'AI è una black box e si parte con una serie di contenuti, un insieme di contenuti importante, quindi un numero di contenuti elevato. C'è una parte di expertise dell'utente che consente dell'intelligenza artificiale che consente di individuare partner, sempre l'intelligenza artificiale applica i tag e poi c'è sempre l'intervento diciamo umano per effettuare la review dei risultati. Nel machine teaching invece è human centering l'approccio, si parte con un set ridotto di informazioni, l'intelligenza artificiale decodifica quindi l'expertise effetto del tagging, il risultato viene mostrato diciamo in maniera abbastanza rapida. L'approccio di Microsoft utilizzato per implementare SharePoint Syntex è un mix diciamo delle due cose, quindi prevede sicuramente supporto da parte delle persone perché ovviamente niente funziona fondamentalmente senza l'intervento umano, ok? Quello dell'intelligenza artificiale non vuol dire assenza dell'uomo, vuol dire tutto un insieme di tecnologie, tutto un insieme di pratiche che supportano l'uomo per effettuare insomma il proprio lavoro, ok? Sono comunque strumenti a supporto, ok? Questo approccio è sicuramente interattivo, quindi c'è una parte sicuramente manuale, una parte di object detection, questi sono i pillar dal punto di vista dell'AI che Microsoft ha fondamentalmente utilizzato per implementare SharePoint Syntex, quindi l'approccio manuale, l'object detection, quindi una parte di OCR, text recognition, form processing, questo lo vedremo nella demo sicuramente, che consente di definire a partire da una form, quindi da un modello, da un documento, dei cosiddetti content type e dei metadati su documenti strutturati e il document understanding, ok? Che invece è la parte di recupero di informazioni su documenti non strutturati, ok? Andiamo a vedere nel dettaglio queste due parti, ovvero il document understanding e il form processing, che sono le due funzionalità in content service offerte da SharePoint Syntex, ok? Qui ovviamente incominciamo a capire, a rivedere dei concetti, delle informazioni, delle pratiche che chi sviluppa su SharePoint da anni conosce da sempre, banalmente i content type, banalmente il term store e tutta la parte di manage metadata, ok? Microsoft con l'introduzione di SharePoint Syntex non ha fatto altro che arricchire, rendere sempre più performante, sempre più disponibile vicino all'utente questi due componenti, che sono appunto i content type tramite un content type up moderno e la parte di tassonomia che è stata totalmente rivista. Ma restando sui documenti understanding, quindi il form processing, sono due approcci che appunto consentono di, il primo, di creare all'interno del content center dei modelli utilizzando un'interfaccia presente all'interno del content center. È possibile utilizzare dei file non strutturati, è possibile fare un training con un numero veramente basso di elementi, quindi di documenti, che devono però comprendere anche gli esempi negativi. Quindi immaginate un sistema che consente di riconoscere e taggare, quindi individuare all'interno del testo di un documento, delle informazioni, un documento non strutturato in maniera così ordinata, per capirci. È possibile classificarlo, definire degli estrattori anche personalizzati e tutto questo è applicabile a delle library multiple, quindi è possibile avere anche tutta una serie di library che sfruttano e utilizzano le tue regole definite nel documento understanding. Il form processing invece è un approccio che sfrutta, sicuramente sfrutta la Power Platform, ok, per creare il modello in AI Builder, ok, che è la parte di Power Platform dedicata all'intelligenza artificiale. Quindi è possibile creare dei modelli in una singola document library, utilizzare dei formati di file semistrutturati, quindi immaginate un processo risorto, una fattura, un ordine, una richiesta di ordine e il tutto con un training basato appunto su documenti del tipo PDF o immagini per un totale di circa 50 mega o 500 mega, questo è per la parte di 500 pagine, scusate, questa è la parte di training che vedremo nella demo, quindi nella demo vedremo la parte di form processing. Bene, andiamo avanti e facciamo qualche cenno relativo al come è stato rafforzato tutta la parte di term store e management data, grazie all'introduzione di SharePoint Syntax, sicuramente il tutto è stato reso consistente e coerente su tutto Microsoft 365, questo vuol dire che questi tag ce li ritroviamo sicuramente su tutto SharePoint banalmente, ma ce li ritroveremo anche su Teams, ma ce li ritroveremo in altre applicazioni man mano che verranno rilasciate le funzionalità. Non solo, anche la parte di esperienza di tagging ha una parte di auto tagging e suggestion che è stata sicuramente migliorata. Così come la search, noi siamo abituati a fare la search utilizzando la parte di term store e quant'altro. Anche in questo caso, dato che è stato potenziato la parte di inserimento, tutto il resto è stato fondamentalmente migliorato e potenziato in maniera naturale, così come il servizio di tassonomia. In particolare le nuove capabilities sono la possibilità di estrarre dei metadati in maniera consistente per applicazione, una parte di reportistica per capire e gestire meglio il term store fondamentalmente. La parte di content type hub, chi li conosce insomma sa di cosa sto parlando, quindi immaginate che è possibile definire dei content type che vanno a essere definiti grazie alla definizione dei processi relativa all'intelligenza artificiale e questi content type sono utilizzabili ovunque e possono far parte dei processi. Anche questo lo vedremo nella demo. Un'altra parte che è stata rapportata è l'importazione dei formati, ovvero la possibilità di importare term store e term set fondamentalmente da formati diversi o potenzialmente anche fonte esterne. Ok andiamo avanti, vediamo un po' come la parte di Microsoft Graph è stata, è comunque lo strato di base per quanto riguarda non solo la parte di SharePoint Syntax e Cortex ma in generale su tutto Microsoft S5 e c'è una parte che appunto consente tramite o i connettori o tramite connettori diciamo di piattaforma o altri di disponibile da altri partner di implementare l'interoperabilità tra SharePoint, Cortex e tutta altra parte come Bing e Windows 10 stesso sulla parte di documenti come session portale e la di Windows 10 per poter estendere l'esperienza di Microsoft S5 sfruttando l'intelligenza artificiale. Infine ovviamente è possibile costruire la propria esperienza per ciascuna linea di business, app o solution. Questo fondamentalmente è il modello architetturale di Microsoft S5 applicato all'AI. Ok, facciamo qualche cenno al compliance, ovvero tutto quello che ci siamo detti, quindi la possibilità di realizzare soluzioni che sfruttano l'AI va potenzialmente a confluire nel compliance center, quindi è integrabile, cioè tutte le label che noi applichiamo automaticamente alle nostre documenti tramite vari processi dei content service, le possiamo usare per fare retention, le possiamo fare per fare DLP, quindi sensivity label, le possiamo usare per dare la possibilità agli utenti di interagire con queste label, per fare analytics e così via. Quindi il tutto non è tra virgolette fin a se stesso dal punto di vista del processo di business, ma consente di estendere ad applicare il tutto ai servizi di compliance, quindi un modo per fare compliance decisamente avanzato. Bene, andiamo avanti, siamo finalmente arrivati alla demo dopo che vi ho stordito con tutta una serie di informazioni e di slide, la demo, ok, andiamo a vedere il nostro portale e prima di tutto vi faccio vedere che cosa, vi faccio vedere come si accede al, come si abilita all'esperienza di Syntex, ovviamente dovrete avere una licenza, questo è facilmente recuperabile ed è possibile se il vostro tenant lo supporta attivare una licenza trial sul vostro tenant, una ricetta trial sul vostro tenant per poter abilitare il tutto e sperimentare. Fatto questo, dalla parte del admin center di Microsoft 365, nella parte di setup c'è la parte di piling content e automatic content understanding. In questa sezione, questo l'ho già configurato, ma possiamo andare anche a gestirlo con manage, abbiamo la possibilità per SharePoint Syntex di andare a definire la parte di form, di configurare la parte di form processing e la parte di document understanding. Per quanto riguarda la parte di form processing, c'è l'opzione di abilitare questa funzionalità su tutti i siti SharePoint, oppure su alcuni siti, oppure da nessuna parte. Stessa cosa per document understanding, invece c'è la possibilità di definire un content center, questa è tutta la parte appunto di content service che citavo prima nelle slide. E un content center non è altro che un asset collection, un sito su SharePoint che consente di effettuare le lavorazioni relative al document understanding. Oggi vedremo prima di tutto il form processing e lo facciamo accedendo a un sito SharePoint. Il sito SharePoint che è un banalissimo team site dove ho una document library, ho la mia document library. Per fare il form processing, qual è l'obiettivo fondamentalmente del form processing? È fare in modo che data una form, quindi banalmente un documento fatto così, una ricevuta, una fattura, tutti questi diventino metadati del documento. Quindi immaginate che questo documento avrà come metadato la salesperson, il payment terms, o l'indirizzo del cliente, quindi il cliente stesso, o il numero di fattura. Sono cose che banalmente vengono fatte nel momento in cui si va a definire un sistema documentale. Quindi andiamo sul browser, andiamo nella mia document library e quello che facciamo è andare ad accedere sulla ribbon, sulla parte di iBuilder e crea un modello per processare la forma. Gli do un nome, quindi questo lo chiamo fatture, o anche una cosa di questo tipo, invoice ID, per esempio. E nell'Advanced Settings capisco se voglio creare un nuovo content type o usarne uno di quelli esistenti. Infine setto la view del content type che andrò a definire come default. Creo e lui mi naviga sull'iBuilder, che è un componente, come vi dicevo, presente sulla parte di Power Platform. Ok? Nel mio environment, fondamentalmente, vediamo se tutto funziona a primo colpo. ci mette qualche minuto. Nel frattempo che crea questo, qualche secondo. Ok, posso andare a creare il mio modello per la forma. Come faccio? Prima di tutto vado a definire dei campi. Ok? Quindi immaginate il mio documento, come ci siamo detti. Vado qui, vado qui. Quali campi voglio tracciare? Voglio tracciare, ad esempio, la data. Ok? Quindi date of invoice è un campo che voglio tracciare, poi voglio tracciare il customer ID, customer ID, voglio tracciare l'invoice number e scrivo, diciamo, seleziono tutti i campi che voglio tracciare nel momento in cui carico un documento su quella specifica document library. Il subtotale, 6 stacks, che è la parte finale, e il total, quindi il totale della fattura. Ok? Ho anche la possibilità, ma in preview, di fare in modo di intercettare grid, tabelle fatte in questo modo. Bene, vado avanti e lui mi propone di creare una nuova collection per fare la parte di studio, di training. La nuova collection non è altro che un file upload di tot documenti fatti in un certo modo, ho detto in breve. Ok? Quindi questi sono i miei documenti di sample, li carico. Perfetto. E quello che vado a fare adesso, appena mi carico i documenti, è l'analisi. L'analisi che comprende la parte qua, ho una bella wizard con degli step definiti, ho aggiunto 6 fields, ho aggiunto una collection, deve effettuare il cosiddetto tag document, sperando che faccia in tempo. Ci vuole qualche minuto, qualche seconda, in realtà ho deciso di farlo vedere in questa demo perché i tempi che ho visto sono sicuramente ragionevoli ed è possibile, insomma, spiegarlo e vederlo anche in diretta. Ci metto comunque qualche minuto. La cosa importante è che una volta terminato adesso mi dà la possibilità, sto cercando di caricare i field, mi dà la possibilità di effettuare il tag dei documenti. Quest'operazione è decisamente, come dire, divertente anche perché posso fare un show detected word e mi individua già le informazioni che secondo me dovevo taggare. Quindi abbiamo la data dell'invoice che banalmente è questa e quello che posso fare è selezionare e scegliere il field. Così facendo faccio il mapping, questo è l'invoice number, questo è il customer ID, quindi se mi ha selezionato la parola posso anche fare direttamente così. Poi abbiamo qua il subtotale, le tasse e il totale. Perfetto. A questo punto ho fatto il mio primo documento, devo farli tutti e cinque. Fortunatamente è intelligente, mettiamola così, mi ha già individuato sui successivi documenti, quindi io devo solo confermare e quando è tutto verde vuol dire che li ha trovati. Perfetto. Quindi questo, ovviamente li posso anche modificare nel caso. Ok. Vado avanti e finisco la parte di tagging. Olè. Quindi ho finito. A questo punto parte il train. Ho un recap di tutto quanto, i miei campi e così via. Parte il training. Anche qui ci mette qualche, insomma, un minutino. Perfetto. Il training è completato. Devo però pubblicare il mio modello. Quindi sempre sulla parte di Power Platform, nella parte di iBuilder e Model, ho il recap del mio invoice ID, il mio content type fondamentalmente. Faccio una pubblicazione. La pubblicazione mi rende disponibile questo content type. Un modo tale che io lo posso usare dove? All'interno della mia library. In questo modo ottengo fondamentalmente il mio risultato, ovvero avere la possibilità di gestire i metadati di questo documento, di documenti con questo modello in maniera automatica. E non che io una volta che aggiungo il documento, devo per forza andare a popolare manualmente questi metadati. Che qui ci mette qualche secondo, qualche minuto. Nel frattempo che fa questo. Ecco qua. Posso fare Use Model. Ecco qui. Use in SharePoint non fa altro che definire il tutto, sfruttando ovviamente flow. Quindi cosa fa Use Model? Crea un flow di Power Automate, che quando un documento viene collegato a quella, viene caricato su quella document library, processa il documento tramite questo modello, applica, fa il discover dei metadati e applica i metadati alla mia lista, alla mia document library, all'item, al documento presente nella document library. Perfetto. Questa è sempre la mia form di prima, ma mi ha aggiunto il content type e mi ha aggiunto nella vista le mie colonne, con i campi che ho definito. Immaginate cosa vuol dire quanto è veloce fare una soluzione di questo tipo. L'abbiamo fatto in pochi minuti e questo qui è sicuramente una cosa molto, molto, molto potente. Ok. Perfetto. Testiamo subito la funzionalità e andiamo a mettere, ad esempio, questo documento nella mia document library. Ok. Quindi cosa faccio? Lo trascino e quando lo trascino mi carica il documento, quindi sta caricando il documento e compare un messaggio, un messaggino che dice we are analyzing your file, quindi lo stiamo analizzando, una o più colonne saranno aggiornate nel momento in cui è terminato il processo. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che questo documento, che è l'adaptum 6, che porta dentro invoice number 1965 e così via, una volta che è terminato il content processing, questo è un flow di Power Automate, chi ha lavorato su Power Automate ne avrà fatti milioni di questi, una volta terminata l'operazione mi aggiornirà automaticamente il tutto. Vediamo nel frattempo che finisce questo, che ha terminato. Aspettiamo qualche secondo perché comunque deve eseguire il flusso, fondamentalmente. Mi dovrei ritrovare a breve i metadati, fondamentalmente, ed eccoli qua. Ok, quindi adesso andremo a vedere il flusso. Sicuramente guardiamo la correttezza, il custom ID è 57,91, il invoice number è 19,75, questi sono gli importi, 475, 57 dollari, 8 dollari di tasse, 448 di soldi su totale. Quindi abbiamo visto che funziona fondamentalmente. Ok, cosa posso fare? Andiamo a vedere cosa è successo dietro le quinte. Se io vado a vedere questo modello nuovamente sulla interfaccia di Power Platform, o il fatto che appunto c'è un Power Automate, un flow che usa questo modello e che si chiama invoice ID, il mio content type, process form information from a build to SharePoint. Questo flow è un flow di Power Automate a tutti gli effetti che durante il run, prima di tutto vediamo com'è composto. ha un trigger che è quando carico il documento, quindi when a file is created, e nelle varie condizioni ha la parte di get file content e predict. Quindi cosa fa questo connettore? Fa la predizione secondo un certo modello, dando l'impasto fondamentalmente il contenuto del file e risponde con predict result. quindi con tutti i metadati che ha estratto dal mio documento e dal mio modello. Ok, andiamo anche a vedere l'esecuzione, magari. Quindi quello che è successo qui. Ok, quindi nella predict, tanto ci interessa questo perché il resto è un connettore a standard SharePoint, ha recuperato i vari metadati. quindi questo è stato fatto tutto tramite appunto il connettore che ha creato lui. Quindi lui sotto mi ha creato appunto il flow, me l'ha collegato alla library, mi ha fatto diciamo tutta questa parte che sicuramente è un automatismo non da poco. Andiamo a vedere poi questo qui per quanto riguarda la parte di form processing. Ok, la parte di form processing è questa fondamentalmente. Per la parte di document understanding invece, che è l'altro content, probabilmente non facciamo in tempo a vederla, ma vi faccio almeno vedere quello che è il content center di syntax che ho creato. C'è un tour, qui possiamo vedere cosa vuol dire fare un modello su documenti non strutturati o comunque in maniera guidata. Quindi prima di tutto devo creare un modello aggiungendo dei file. Il secondo step è quello di effettuare il training, classificando i file eseguendo un training. Il terzo step è creare degli estrattori che consentono di appunto estrarre secondo delle regole dei contenuti sui documenti non strutturati. L'ultimo punto è applicare il modello a una library. Ok, ho costruito tutto quanto, gli do in pasto un'altra document library e applico questo modello. Quindi ottengo diciamo lo stesso risultato che ho qua, ovvero estraggo content type e metadati, alimento anche delle tassonomie sul term store sfruttando questo approccio. Ok, io non so se ci sono, quanto tempo mi è rimasto. Vediamo un po', perché ho ancora qualche slide. Il pricing, perfetto. Esatto, tra l'altro le slide parlano esattamente di questo. Allora, in realtà, come funziona? Funziona con una licenza che è aggiuntiva fondamentalmente, che è aggiuntiva alla licenza base, diciamo, di Microsoft S5, quindi un E3 o un E5 o quant'altro. Ed è per utente, costa circa 5 dollari al mese a utente per utilizzare tutta la parte di processo, di form e di tutti i content service fondamentalmente. Ok? Per la parte di syntax. Il form processing ha anche ulteriori limiti, fondamentalmente nel senso che, più che limiti, ha una tipologia di calcolo basata su crediti mensili per singola forma. Io quello che vi posso dire è che, da quanto ho visto, perché comunque è un sistema che è comunque in evoluzione, poi sappiamo che la parte di licenze su Microsoft è a volte un po' una giungla, è che questi credit, che è possibile acquistare, diciamo, dei crediti aggiuntivi, la parte di form processing ha comunque un minimo di utenti che 300, ok? Quindi ci sono dei costi fondamentalmente. Secondo me sostenibili rispetto al risultato ottenuto, ovviamente dipende dal contesto, dipende anche da dove si vuole, cosa si vuole costruire e cosa si vuole realizzare all'interno del proprio content management system. Una soluzione di questo tipo, fatta, come dire, senza syntax, ha sicuramente dei costi di sviluppo e manutenzione secondo me maggiori rispetto all'utilizzo di queste, insomma, di shopping synthesis. Quindi non solo maggiori in termini di effort di sviluppo, ma anche in termini di manutenzione e anche di flessibilità. Nel senso che, come avete visto, è possibile taggare una volta che identificate il vostro use case e avete il vostro caso d'uso, sviluppare un po' una funzionità di questo tipo è veramente immediato. L'abbiamo fatto in dieci minuti. Ok. Casi più complessi che richiedono, ovviamente, delle definizioni più complesse, ovviamente, è possibile farli. Ok. Perché, soprattutto, per la parte di documenti non strutturati, che non abbiamo visto il dettaglio, per una cosa di tempo, però sicuramente è molto, molto potente. Ok. Vi lascio anche un ultimo slide dove ho riassunto, insomma, dove ci sono riassunte l'annuncio dell'anno scorso, ma dove trovate anche tutte le novità per la parte di Scelto in Syntax. Il link alla documentazione a Microsoft è anche una demo. Nel momento in cui magari il vostro tenant non lo supporta, hanno realizzato un sito demo dove è possibile prendere atto e visione di quello che è stato realizzato. Ok. Grazie, Federico. Vai, Leonardo. Penso che il tempo è finito. Ok. Hai tempo per due domande? Allora, una l'ho già risposta. Ok, scusami, mi ero un secondo distratto. E l'altro, quale è il pricing model? L'hai già... Sì, quello che stavo parlando. allora, si chiedeva Ciao, document understanding su quale servizio Azure si basa l'USD o custom text analysis oppure su altro? Non ho la risposta a questa domanda purtroppo perché non... Insomma, io ho studiato tutta la parte sicuramente SharePoint, gli internas non ho avuto ancora modo di studiarli e vederli. Credo che siano documentati per bene e ovviamente useranno un servizio base di Azure ma non ho visibilità su questo e non so se nemmeno sia possibile capire. Io quello che ho visto è che penso sia un po' più sul test analytics e la parte di OCR soprattutto. Avete visto anche voi come passando il documento all'altro mi ha riconosciuto posizione e quant'altro. Quindi è un po' una sinergia e un efficientamento di tutti questi servizi. Va bene, ti ringrazio molto, sei stato molto esorsivo e comunque metteremo, ti invito anche a te a mandare le slide così le pubblichiamo e vedremo poi questa sessione su YouTube spero a breve. Grazie mille intanto e grazie a tutti i partecipanti. Ciao. 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 Ciao.